Ancora quelli che vivono un po' nel Medioevo, che prendono il video e poi mettono gli effetti dopo, no amici miei, no amici miei, dovete aggiornarvi, adesso il vostro amico Lion, che magari voi avete questo bisogno, arrivo io in vostro soccorso e vi spiego come innovarvi, adesso vi faccio sentire, questo richiesto dei giorni di lavoro Non è finita qui però, non è finita qui, possiamo fare le scorreggie in diretta, ma voi vi rendete conto di che livello di tecnologia, Anna non sta provando Mi sta emozionando, mi sta emozionando Non mi esprimo, meglio che non mi esprimo Ma in realtà un po' ti sei espressa Top quality, innovation, the future is now Ma si può anche mixare lì, è indefinitivo Siete pronti? Ma comunque ieri notte ci sono pensi a ridere, tipo un quarto d'ora Sì sì, per i ruti e le scorreggie Sì sì, una cosa molto intellettuale Avete visto? Però è vero che ci sono voluti due giorni, ma l'innovazione richiede un sacco di tempo Ma non è finita qui, perché per esempio uno può fare così e poi Questa è la combo, quella seria, questa è proprio abbinata Cioè ma queste cose poi hanno applicazioni, non fa ridere, allora, se non ti fa ridere questo Io non ti voglio dire di andartene da questa live Però fidati che mi ci porti vicino Perché questa cosa fa veramente ridere Fa veramente ridere